Buongiorno a tutti ragazzi, in questa lezione vediamo una prima introduzione sulle derivate un piccolo corso base sulle derivate, seguirà una seconda lezione con un approfondimento per, diciamo, un qualcosina in più per chi insomma se lo può permettere. Allora, intanto, perché le derivate? Argomento molto molto importante soprattutto per le scuole economiche, soprattutto per materie come economia, aziendale, economia politica in cui si parla sempre di massimo profitto, minimo costo, mi viene in mente anche in economia politica il discorso del massimo profitto del monopolista, della concorrenza perfetta e così via e chiaramente anche in matematica quando all'interno dello studio di funzione vogliamo andare a vedere l'andamento della funzione, ovvero dove sale, dove è crescente, dove è decrescente e se si trovano i punti di massimo e di minimo. Ecco, le derivate sono lo strumento che ci permetteranno appunto di trovare queste altre informazioni sullo studio delle funzioni, quindi sono molto molto importante nella matematica applicata all'economia per queste situazioni di massimizzazione, minimizzazione e quindi ottimizzazione. Al di là di questi aspetti del perché questo argomento è così fondamentale, andiamo sulla parte pratica. Noi in questo momento calcoliamo la derivata di una funzione. Noi partiamo sempre di una funzione y uguale a f di x e il nostro obiettivo è calcolare la funzione derivata, derivata dalla funzione principale applicando una serie di regole che in questa lezione vedremo. Il simbolo per indicare la derivata è y' o anche f' di x. C'è un'altra simbologia ma per il momento lasciamo e utilizziamo soltanto questa. Non sto a farvi tutta la definizione di derivata, la dimostrazione delle formule perché in questo momento mi preme che voi sappiate calcolarle in maniera meccanica. Poi vi dicevo nell'approfondimento che faremo per gli interessati possiamo vedere anche il perché di queste formule. Allora per il momento io vi invito a studiarvi una tabellina. Vedrete che lo studio non è poi così complicato perché facendo qualche esercizietto le derivate delle funzioni principali le ricorderete già. Allora nella parte sinistra della tabella abbiamo la funzione di partenza. nella parte sinistra della tabella abbiamo la funzione derivata. Come si fa a calcolare la funzione derivata? Bene, allora come vi dicevo non sto a dimostrarvi il perché di questa cosa ma al momento voi dovete sapere che se la funzione di partenza è un numero la sua derivata è pari a 0. Se la funzione di partenza è una x elevato a n, cioè una funzione potenza, per costruire la derivata fate così. L'esponente passa davanti e la x perde un grado, n-1. Poi vi metto ancora come funzioni la derivata di alcune funzioni che vi potrebbero servire e che sono la derivata della funzione esponenziale, la derivata di e elevato a x è se stessa, e elevato a x è elevato a x e la derivata del logaritmo naturale di x è 1 fratto x. Lascio perdere le derivate di funzioni un po' più complicate, per il momento a me interessa che voi sappiate queste cose qui. Scrivo solo un po' meglio perché non mi piace niente questa derivata scritta così, visto che facciamo le cose fatte bene, facciamole fine in fondo. Quindi n per x elevato a n-1. Come funziona questa tabella? In maniera molto molto semplice. Vi faccio degli esempi subito qua di fianco. Allora, se la derivata che vi viene assegnata fosse y uguale a 3, che ragionamento fate? y uguale a 3, 3 è un numero. E quindi la derivata di un numero, siamo in questa riga qua, la derivata di un numero abbiamo visto essere uguale a 0. E finisce l'esercizietto. Lo stesso, se io dovessi avere y uguale a meno un quarto, mi domando che cos'è meno un quarto? meno un quarto è sempre un numero. E quindi la derivata di un numero è sempre pari a 0. Se invece l'esercizio mi dice calcolami la derivata di x, ancora più facile, mi interessa la x, vado a vedere quant'è la derivata di x. La derivata di x è 1. Fine dell'esercizio. Allora, vengono gli esempi un po' più applicativi. Se io dovessi avere x alla seconda, allora vedo che x elevato alla seconda, la seconda è un esponente. Eccolo qua. Quindi siamo nella terza riga della nostra tabella. Allora vi ho detto che l'esponente il 2 deve passare davanti alla x e la x perde un grado e quindi verrà 2 passa davanti, la x perde un grado, 2, meno 1 che fa 1. Risultato 2 elevato alla x. Bene, a questo punto cambio pagina, faccio degli altri esempi. Se io dovessi avere y uguale x alla terza, quale sarà la sua derivata? Vi ho detto. È sempre la stessa tipologia, prendo l'esponente, lo passo davanti e quindi scriverò 3x e la x perde un grado, 3, meno 1, quindi diventa 3x alla seconda. È chiaro che questo passaggio di far perdere un grado lo posso saltare, per cui se io ho y uguale x alla decima, scriverò y primo uguale, il 10 passa davanti, quindi 10, x lo faccio scendere di un grado, x alla nuova e ho calcolato le derivate di queste funzioni. La derivata più simpatica è se io dovessi darvi la funzione y uguale di x, la sua derivata, vado a vedere sulla tabella, e di x è questa tipologia qua e quindi la sua derivata è sempre se stessa, quindi scriverò e elevato a x. Così pure, se mi dovessero dare il logaritmo naturale di x, la sua derivata sarà, vado a vedere nella tabella, ln di x è questo caso qua, 1 fratto x e lo scrivo nel risultato. Come vedete, molto, molto meccanico il calcolo delle derivate. Grazie. CorCT Romiones